eccoci tornati con la seconda parte c'è sempre noi i poveri coglioni sempre su point of contact l'ecosistema trofi io dò un'occhiata agli scorpion vedete che con lol ragazzi quando uccidete un demente vi danno tutti sti bocchini qui tipo alieni che figata però copritevi dagli scorpioni mi attacca sui te ovi sui te ovi Io intanto ho un bengala, grazie. Ho potenziatori, grazie, che servono per ricaricare, switchare, mirare più velocemente. Non lo sto parlando solo, sto parlando con il cable. Sì, sì, perché sono su Skype, prega. Non pensate che siamo fatti. Oh, chi è quel puttaniere, da qua? Oh, dove andato? Guarda sto troione, crepa. Ci provo una troia. Guarda, ti ho messo una mezza fila. Ho visto. Ciao, Peppo, via. Tenete. Buone. Questo. No, no. No, no. No, no. Va bene. Va bene. ti divertiamo mi ero andato un po' tempi per addosso, non mi sa che non mi ha fatto niente ma guarda, ormai c'è stato colosso? è morto no? ma... io intanto prendo questo attivi alle trappole raga io sono mille punti e ve lo dico io sono mille punti c'è una roba da esaminare freno di bocca ne manca uno io ho incursore al massimo raga eh perfetto potenzia la torretta adesso ok buono ok perfetto comunque questa modalità è molto... cioè è divertente dopo che impari a conoscere i trucchetti così diventa divertente quanto ci mette quella trivella? è lunghissima non finisce più perchè è esploso? mi ha sparato a lui raga cosa serve il treno di bocca? più precisione penso più precisione penso prego prego ahhh po' po' è paulissimi non paulissimi non paulissimi non paulissimi corazza ok corazza po' vuoi che arma vete raga? eh? carnava io ho sa 805 con freno di bocca ah... io prendi con il filo di bocca allora mi prendo la mele incontri dalla soca però va qui ci assi una qui c'è che tolano eh. ci assi una giù 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 ti assi una giù ci assi una giù io ti erano più punti e grazie a 900 punti medico guarda arrivo scudo antissommossa TMS figo potenziamo la torretta i big money 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 ma chi sei te è un cerbero proprio cerbero bella raga fai almeno qui l'episodio ci siamo al prossimo via i ho